Da qui parte la nostra riscossa per il paesaggio. Italiani, venite con noi, salviamo questo paesaggio, salviamo questo nostro ambiente, questa nostra storia, questa Italia cantata da sempre dai poeti ed ammirata da tutto il mondo. Io lancio un messaggio agli italiani, alle donne, ai bambini, ai vecchi. Salviamo il nostro paesaggio che è in pericolo dal cemento. Per piacere mandate un SMS al FAI, 2 euro, a questo numero 48548. E il FAI cercherà di rendere gli italiani consapevoli delle nostre bellezze. Per noi, per i figli, per i nipoti, per le nostre radici, per le future generazioni. Ma anche per l'Europa ed anche per il mondo, perché l'Italia è unica!